Ciao a tutti sono giornalismo del Cuore Italia 1, benvenuti alle ultime notizie di oggi Qualcuno sta prendendo le distanze da Gemma Galgani in queste ultime ore La dama del trono over viene demolita pesantemente.La dama Gemma Galgani sta facendo molto parlare di sé in queste ore e di un suo possibile ritiro dalla tv Cosa è successo che potrebbe costringerla a prendere una decisione del genere? Era la regina del trono over e ultimamente Gemma Galgani è stata spodestata da Pinuccia che riesce a catalizzare tutte le attenzioni su di sé, comprese le ere di Tina Cipollari Il pubblico ha notato che nelle ultime puntate è stato dedicato sempre meno tempo a Gemma e in molti si interrogano su cosa ci sia dietro a questa scelta La Galgani è stata il perno e l'anima di uomini e donne per anni e non può essere messa all'angolo così all'improvviso Le sue conoscenze prima con Franco e poi con Luigi sono andate male e pare non ci siano altri corteggiatori in vista per lei Per questo motivo la dama torinese non verrebbe invitata al centro studio da Maria De Filippi con la stessa frequenza di prima, anche se qualcuno dai social ipotizza uno scenario ben diverso Gemma se ne vuole andare? Nel minutino le concede più i riflettori come prima e i loro siparietti tragicomici mancano parecchio al pubblico Ma non a tutti.Gemma Galgani in ombra, ritiro dalla TV? L'ultimo a fondo arriva da un'intervista a Giorgio Manetti, suo ex storico con il quale in questi anni è andato avanti uno scontro infinito tra piccole vendette e botte e risposta velenosi L'ultima esternazione di Manetti mi fa pena, cosa vuole partecipare al trono over 70, appare a qualche utente un po' esagerata e forse stavolta ha colpito il segno La Galgani sta scaldando la sedia secondo molti e in aggiunta continua a ricevere attacchi ferocissimi nella sua direzione Probabilmente Gemma soffre di un periodo di stanchezza per tutte queste frecciate spesso sopra le righe e Maria De Filippi potrebbe essere in difficoltà senza corteggiatori a farla partecipare attivamente al programma Dai social si esprimono duramente contro di lei, colpevole di aver addirittura abbassato gli ascolti Fa bene il programma a distaccarsi un po' da lei anche perché gli ascolti non ne risentono affatto quindi Vedremo cosa accadrà nelle prossime puntate che ci portano a maggio, mese nel quale il programma concluderà la sua stagione Buona parte degli utenti è certa che Gemma Galgani non tornerà a settembre e non la vedremo dunque nemmeno più in tv Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video